Mercoledì sera l'incontro con il Consiglio di Quartiere Torraccia, martedì prossimo il confronto con il Comune e forse con lo stesso Istituto Zoprofilattico. Prosegue la mobilitazione di cittadini pesaresi che si oppongono alla creazione del laboratorio di biosicurezza previsto fra via Furiassi e via Grande Torino in seguito all'assenso comunale allo spostamento della sede dell'Istituto Zoprofilattico Sperimentale dell'Umbra e delle marche Togo Rosati attualmente presente in via dei canonici a Villa Fastigi. Da mesi si è creata una mobilitazione contro la delibera di cessione del terreno approvata il 24 ottobre dal Consiglio Comunale che autorizza un laboratorio di biosicurezza 3, ovvero una struttura in grado di fare sperimentazioni e manipolazioni in vivo e in vitro in maxistalle per animali. Sperimentazioni che il Comitato di Cittadini Contrare alla Creazione del Laboratorio sta additando come pericolosi per la salute di animali e persone pur in condizioni di massima sicurezza e contenimento. Cittadini contrari al laboratorio e soprattutto alla sua realizzazione in una zona prossima ad aree residenziali. Il Comitato da settimane ha mobilitato volantinaggio informativo e una petizione di raccolta firme presso tanti esercenti cittadini. Mercoledì sera invece c'è stato il confronto del Comitato con il Consiglio di Quartiere Vismara Torraccia che ha ammesso di non essere stato interpellato dal Comune in merito al progetto e che il parere del quartiere non sarebbe comunque stato vincolante. Dal Comitato è arrivato il chiaro invito al quartiere a far fronte compatto contro questa realizzazione. A partecipare all'incontro anche Michele Redaelli e Giulia Marchionni, consiglieri comunali di un centrodestra che invita a fare maggiore chiarezza sulla questione. Idem per Andrea Marchionni che si astenne al voto della delibera di cessione del terreno e Lisetta Sperindei che all'epoca fu l'unica consigliera ad esprimere voto contrario e che ha previsto un ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale di lunedì. Preludio a martedì 17 gennaio quando in Comune si riunirà la Commissione Ambiente e Controllo Atti alla presenza di una delegazione del Comitato e probabilmente di una rappresentanza dell'Istituto Zopro Filattico. Responsabili dell'Istituto Zopro Filattico che sono anche stati convocati per il 18 gennaio dalla quarta Commissione Permanente della Regione Marche presieduta dal consigliere Nicola Baiocchi per dipanare ulteriormente i dubbi su questa realizzazione.